Sono diminuiti del 10% i roghi nella terra dei fuochi dalla scorsa estate. E' quanto ha reso noto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, durante la cerimonia di consegna degli attestati di formazione per le realtà impegnate nei corsi per le attività di vigilanza e contrasto ai roghi tostici tra le province di Napoli e Caserta. I tre assi su cui si sta sviluppando l'azione per contrastare la terra dei fuochi, e cioè i roghi, la qualità dell'aria e le bonifiche, passano attraverso un attente esame di ciò che è una materia così complessa, difficile, articolata e spesso anche complicata da un'attività di prevenzione che sia efficace. E allora questa formazione, unita anche ai controlli che sono stati intensificati negli ultimi mesi, ci rassegnano risultati abbastanza positivi. Misure di contrasto al fenomeno della terra dei fuochi, il titolo del corso e della premiazione che si è svolta in due momenti al Teatro San Carlo di Napoli. Il corso era dedicato a 82 unità di personale delle polizie locali e degli uffici ambiente. Intervenuti tra gli altri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola, il presidente della Corte d'Appello di Napoli Maria Rosaria Covelli e il procuratore generale della Corte d'Appello Aldo Policastro.